Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video sul nostro canale YouTube, oggi scopriremo insieme tutti i segreti del nuovo passeggino Momi Estelle Dakar. Come sempre però prima di addentrarci nel mondo di questo nuovo passeggino vi ricordo se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al nostro canale YouTube e di attivare la campanella delle notifiche per ricevere un piccolo avviso ogni volta che pubblichiamo un nuovo video e che mettiamo a vostra disposizione un codice sconto per l'acquisto dei prodotti che vi mostriamo e che trovate come sempre tutti disponibili sul nostro shop online www.casababy.it Ovviamente anche alla fine di questo video vi lasceremo un codice sconto per l'acquisto di questo nuovo passeggino che vi ripeto si chiama Momi Estelle Dakar e quindi andiamo insieme a scoprire quali sono le sue caratteristiche. Iniziamo come sempre con alcune informazioni tecniche quindi vi dico già da subito che il nostro passeggino Momi Estelle Dakar è omologato per essere utilizzato fino ai 22 chili cioè fino all'incirca i 4 anni del vostro bambino e inoltre è un passeggino che pesa solo 8 chili e mezzo però guardate che ruotone che ha ma le vedremo dopo. Partiamo come sempre andando ad analizzare il nostro passeggino da principio quindi abbiamo il nostro maniglione come vedete è un maniglione unito al centro del quale abbiamo i pulsanti che ci permetteranno poi di andare a chiudere l'intero telaio del nostro passeggino e in più abbiamo il nostro maniglione con questo rivestimento in ecopelle vedete che si può aprire semplicemente tramite zip al di sotto del quale troviamo comunque un morbido rivestimento in spugna quindi davvero super top ovviamente avete la zip anche sull'altra metà del vostro maniglione la nostra cappottina invece è una cappottina dotata di protezione UV ed è una cappottina estensibile infatti abbiamo come sempre la nostra zip per poter andare ad estendere ancora un pochino l'ampiezza della nostra cappottina e guardate che carino all'interno del nostro spicchio appunto che abbiamo aperto troviamo la bellissima fantasia del nostro passeggino che ritroveremo poi anche sulle cinture abbiamo poi anche sulla nostra cappottina sempre facenti parte della nostra fantasia questi bellissimi brillantini sempre sulla cappottina abbiamo poi anche l'apertura come sempre dotata di zanzariera e la trasparenza per poter vedere il nostro bambino una volta posizionato all'interno della seduta anche in questo caso vedete che nella letta che si va ad aprire riprende si riprende la fantasia che troviamo anche sul resto della cappottina e la letta si va a richiudere semplicemente con il velcro quindi davvero super top vado a chiudere la nostra cappottina così la andiamo a chiudere per bene e possiamo andare a vedere l'interno del nostro passeggino innanzitutto anche in questo caso abbiamo un davantino di protezione ricoperto esattamente come il nostro maniglione da questa fodera in ecopelle sempre dotata di zip per poterla andare a rimuovere e come vedete se andiamo a rimuovere la nostra zip di protezione sotto troviamo il rivestimento in tessuto sempre che riprende la nostra fantasia fantasia che viene ripresa anche come potete vedere sulle cinturine sugli spallacci e sullo spartigambe le cinture sono sempre cinture a 5 punti quindi abbiamo le cinture che passano sulle spalle le cinture intorno alla vita e la cintura che passa in mezzo alle gambe aprirle super semplice basta premere i pulsantini e come vedete possiamo anche andare a separare le cinture che passano sulle spalle da quelle che passano intorno alla vita per andarle a regolare in maniera autonoma le une dalle altre voilà come vedete davvero super super semplice vado a prendere il centimetro così vediamo insieme quali sono le misure del nostro schienale della nostra seduta innanzitutto il nostro schienale ha un'altezza di 40 centimetri e una larghezza di 34 centimetri per quanto riguarda la nostra sedutina invece abbiamo un'ampiezza di 33 centimetri ed una profondità di 23 centimetri se vado a considerare solo la seduta mentre diventa di 39 centimetri se vado a sollevare anche il mio poggiapiedi poggiapiedi peraltro regolabile e foderato in questa bellissima ecopelle che fa sì che si rovini meno per andare a regolare il mio poggiapiedi basta semplicemente premere le levette che trovo sotto e andarlo a posizionare nella posizione che maggiormente mi aggrada forse non vi ho detto prima che anche il davantino è un davantino removibile basta in questo caso andare a premere i pulsantini e posso andare come vedete a sganciare o da un lato da entrambi i lati il mio maniglione il nostro passeggino è oltretutto dotato anche di uno schienale reclinabile per la nanna del nostro bambino infatti come vedete nella parte posteriore abbiamo la nostra solita culisse basta semplicemente andarla ad abbassare completamente e andare a reclinare vedete lo schienale del nostro passeggino guardate la posizione nanna è davvero super super comoda super bella ve lo faccio vedere anche di lato così appunto dovrebbe vedersi bene la posizione nanna e questa è la vista frontale per andare a sollevare nuovamente il mio schienale basterà poi fare scorrere la culisse ma volevo farvi anche vedere prima di tirare su lo schienale che avete la possibilità di andare ad arrotolare per il periodo caldo tutta la capottina che trovate nella parte posteriore potete andarla ad arrotolare e a chiudere con vedete il nostro elastico e avete quindi la vostra seduta con questa protezione a retina più le protezioni laterali che quindi vi permettono di fare circolare in maniera migliore l'aria vado nuovamente a tirare giù la mia capottina così andiamo a ricomporre il nostro passeggino e volevo ancora farvi vedere com'è la capottina con la nostra seduta completamente reclinata così è con la capottina non completamente estesa così invece è con la capottina ampliata quindi comunque vedete abbiamo davvero una bella protezione per il nostro bambino direi che adesso possiamo andare a sollevare il nostro schienale e per andare a sollevare lo schienale dovremo semplicemente riprendere la nostra culisse e come vedete spingere verso l'alto quindi davvero super super comodo andiamo adesso a vedere quali sono invece le caratteristiche del nostro telaio come vedete il nostro telaio è davvero un telaio super super sportivo ma come vi ho detto abbiamo un peso di soli 8 kg e mezzo è un telaio in alluminio quindi davvero leggero ma super super robusto come vedete è dotato anche di portoggetti non molto grande ma devo dire abbastanza profondo quindi bello capiente e poi abbiamo anche il nostro freno a pedale quindi come potete vedere se andiamo a premere il nostro pedalino andiamo a bloccare le nostre ruote posteriori se lo andiamo a sollevare possiamo riprendere tranquillamente la nostra marcia le ruote come vedete sono davvero molto molto grandi misurano infatti 21 cm le ruote posteriori e 14 cm le ruote anteriori che come vedete sono ruote piro e tanti le ruote sono inoltre ammortizzate e realizzate in poliuretano antiforatura vi faccio vedere anche il tipo di ammortizzazione che hanno le ruote le ruote anteriori come vedete sono belle ammortizzate esattamente come le ruote posteriori quindi davvero un passeggino studiato per essere utilizzato su qualsiasi tipo di terreno e vi ricordo pesa solo otto chili e mezzo andiamo adesso però a vedere come si chiude il nostro passeggino come vi ho detto i pulsanti per chiudere il nostro passeggino si trovano tutti sul nostro maniglione quindi non dobbiamo piegarci li abbiamo subito qua comodi dobbiamo spingere seguendo la freccia il nostro pulsante superiore e premere quello posteriore una volta fatto questo semplicemente accompagniamo il nostro passeggino nella chiusura e andremo ad accertarci che la sicurezza laterale sia ben agganciata in modo tale che quando ci spostiamo con il nostro passeggino non andiamo a rischiare che si apra appunto durante la passeggiata il nostro passeggino devo dirlo non sta in piedi da solo quindi è necessario tenerlo ma una volta chiuso avete subito a portata di mano vedete la maniglia per poter trasportare in totale comodità il vostro passeggino quindi in realtà non avete la necessità appunto che stia in piedi da solo come vedete davvero super super slim nonostante come vi abbia detto è un passeggino adatto a qualsiasi tipo di terreno occupa davvero poco spazio come sempre poi sulla scheda tecnica sul nostro shop online trovate tutte le misure quindi le misure da aperto le misure da chiuso e per poterlo aprire anche in questo caso davvero super semplice andiamo semplicemente a sbloccare vedete la nostra sicurezza laterale e andiamo ad aprire il nostro passeggino pronti per affrontare la nostra passeggiata il nostro passeggino inoltre arriva a casa anche dotato di un sacco di accessori prima fra tutti la zanzariera da poter appunto posizionare sul vostro passeggino per il periodo estivo che quindi terrà lontane sia le mosche che le zanzare in più abbiamo il parapioggia anche questo da utilizzare tutto l'anno e in più ancora abbiamo il nostro coprigambe da poter appunto posizionare nella parte anteriore del nostro passeggino quindi come vedete oltre ad essere un passeggino che si adatta a qualsiasi tipo di terreno grazie agli accessori che vi vengono già inclusi insieme al passeggino avete un passeggino che si adatta a qualsiasi tipo di stagione quindi adesso che abbiamo visto insieme quali sono tutti i segreti del nostro passeggino momi estel dakar non mi resta che lasciarvi il codice sconto per l'acquisto di questo prodotto sul nostro shop online www.casababy.it come sempre l'unica cosa da fare è andare ad inserire all'interno del vostro carrello il prodotto in questo caso il nostro passeggino momi estel dakar e poi inserire nell'apposito spazio il codice sconto yt estel dakar come sempre ve lo lascio scritto qua e ve lo lascio scritto giù nell'info box sempre giù nell'info box trovate poi una breve scheda che va a riepilogare tutte le caratteristiche del passeggino e il link per trovarlo più facilmente sul nostro shop online all'interno del quale poi troverete anche la scheda completa con tutte le caratteristiche tecniche gli accessori inclusi e gli accessori optional giù nell'info box vi lascio come sempre anche i link per seguirci sui nostri canali social perché come sempre come sempre vi dico abbiamo ogni tanto bisogno del vostro aiuto ma soprattutto perché sui nostri canali social vi aggiorniamo sempre su quelli che sono le novità le promozioni i codici sconto che mettiamo a vostra disposizione ma soprattutto tutte le promo che creiamo sia valide per il mese intero che valide ogni weekend quindi ogni weekend sul nostro shop online trovate una promo differente quindi mi raccomando vi aspettiamo iscrivetevi al nostro canale youtube e seguiteci sulle nostre pagine social direi che per questo video è tutto e noi ci vediamo al prossimo ciao ciao